Siamo invitando qui nella nostra casa il gruppo Savora Salsa diretto da Tony Castiglio. Ehi là, buongiorno, benvenuto Tony. Buongiorno. Questo è per te. Allora, Tony, grande successo della musica sudamericana in questo periodo. Sì, in questo periodo, particolarmente in Italia, la musica latinoamericana e carifica c'è un grande successo, si balla in tutte le sale, in tutti i posti, in tutte le casse. Ma tu da dove arrivi? Io vengo da Cuba. Ah, vieni da Cuba? Direttamente da Cuba. Direttamente da Cuba? Tony Castiglio. Hai anche un po' l'accento romano, hai preso l'accento romano a fare in stare casa. Senti, ma questo gruppo l'hai creato tu? Sì, questo gruppo è nato perché prima di tutto sono venuto in Italia per fare un lavoro di promozione culturale, quindi promuovere la cultura cubana all'interno dell'Italia. Quindi una volta che ho iniziato a fare questo tipo di danza, in particolare quel tipo di ballo salsa, come ballo popolare nato a Cuba, quindi una volta che loro hanno capito che cosa era, come si sente, come si esprime, come si balla, come si sfrutta, come si gozza, che è sempre carnavale. Quindi ormai è venuta l'idea di creare questo famoso gruppo che si chiama Savor a Salsa. Ma come si va? Mi fai un accenno di... Io dopo aver ballato il flamenco ai cervelloni ormai sono... Vabbè, la salsa è facilissima. Disrovinata. La salsa basta soltanto sentirla dentro e se noi ci mettiamo insieme facciamo così, guarda. Come facciamo? Mettete con me. Andiamo avanti. Quanto con te? Ecco, andiamo. Uno, due e tre. Sì. E uno e due e tre. Allora, aspetta. Allora, avanti, sinistra. Avanti, due e tre. E vai dietro a destra. Uno, due e tre. Tutto qua? E tutto lì. Facciamo a coppia, facciamo alternato, sempre quello. E vai. Sì. Uno, due e tre. Uno, due e tre. Ecco, vedi, pure tu hai diventato una salsera. Fantastico. Eccolo, tutto, 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 tutto. Vabbè, vabbè. Una salsera. La salsa è facile, ragazzi. Bisogna soltanto identificarsi con il ritmo del Caribe e siamo sempre lì. È un nulla. Allora, adesso ci fate vedere come si balla realmente la salta, perché mica solo i piedi. Mi sa che c'è anche... No, siamo anche un movimento del corpo. Perché la meccano del ritmo afro-tubano. Eh, certo. Eh, non lo metto in dubbio. Allora, che cosa ballate? Balliamo un brano di salsa di Willy Cirino, insieme a Celia Cruz, che si chiama Cavallero e Dama. Allora, quello che ha detto lui, Tony Castillo e il suo gruppo. Savor a salsa. Io sono il Cavallero, lei è la mia Dama. Senz'altro. Prego. Allora, quello che ha detto lui, è la mia Dama. Poemasi a sua amata con fiel generazione. E in esos versos su amor le confesava, su vida le ofrendava con eterno fervor. Antiguamente la mujer conservava las flores disecadas en cartas de su amor. E qual tesoro con cintas las adabas, por siempre las guardabas dentro del tocador. Como en el pasado, así yo te quiero. Io sono il Cavallero, io tu Cavallero. Io sono il Cavallero, io tu Cavallero. Come a quello il Cavallo, di capa e spada. Io sono il Cavallero, io tu Cavallero. Io il Cavallero. Con flores y poesia, ardiente e soñador Con elegancia, con gracia e cortesia Nacía la fantasia sublime del amor Antiguamente la mujer escuchava Romántica, extasiada La voz de un trovador Roborizada, fragante, emocionada Il alma le entregaba cautiva de ilusión Como en el pasado, así yo te quiero Yo seré tu dama, yo tu caballero Como aquellos tiempos de capa y espada Yo seré tu caballero, yo tu dama ¡Vaya! ¿Qué les pareció? Como en tiempos de ayer ¡Ay, ay, ay, ay! Así te quiero La mujer es una dama y el hombre es un caballero Era época de coches, de sombrero y de bastón Y como una serenata, la mujer más ingrata Que abría su balcón ¡Oh! Así te quiero La mujer es una dama y el hombre es un caballero Aquellos tiempos señores Bueno es decirlo Daría mucha cortesía Valía la pena vivirlo ¿Cómo fue? ¡Ahí! Azúcar, azúcar, otra vez, otra vez Es agradable pensar y es placentero saber que La mujer es una dama y el hombre es un caballero Besos en la mano por el que lo han Cuando se bailaban las danzas en el bals Tu ves, la mujer es una dama y el hombre es un caballero Tenemos que rescatarla y quererla Porque de ella nacemos y es que La mujer es una dama y el hombre es un caballero Cualquier tiempo pasado fue mejor Tiempos que el hombre llevaba una flor cada febrero La mujer es una dama y el hombre es un caballero ¡Lleva! 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 Grazie.